Ciao a tutti e benvenuto al Rosetto dei Papi, sono Elisa, sono la presidentessa dell'Associazione Domani. L'Associazione Domani è nata appunto quasi due anni fa e ci troviamo nella sede, diciamo pratica, perché poi la sede legale sarà un'altra, ma qua è dove svolgiamo la maggior parte delle nostre attività. È un rosetto che vuole essere un rosetto aperto alla comunità, un orto condiviso, quindi ci sono diverse famiglie che si prendono cura appunto degli spazi comuni e poi ci sarà anche più avanti un co-housing a cui si sta pian pianino lavorando. Questo luogo infatti è così come l'Associazione vuole essere luogo di aggregazione, luogo di cultura. L'Associazione Domani è nata mettendo insieme diverse idee, diversi sogni di due generazioni. Ecco, c'è la generazione un pochino più giovane, che è la mia, e poi la generazione dei nostri genitori, che è quella che si occupa prevalentemente in realtà del rosetto e del co-housing poi più avanti. Noi qua ci dedichiamo all'autoproduzione. Diciamo che l'idea è stata appunto quella di mettere insieme la natura, quindi un ritorno un pochino a prendersi cura della terra e anche a prendersi cura di sé. Quindi parliamo di permacultura, parliamo di essere consapevoli nelle scelte che si fa ogni giorno e anche di riprendere un pochino quel gusto del farsi le cose e quindi del volersi bene, del voler bene al territorio che si vive, utilizzando le risorse più naturali, cercando di prodursele, e allo stesso tempo però facendo una società, cioè facendo parte di una società, stimolando la creazione di una società. Uno dei nostri obiettivi è quello di creare un luogo dove la gente si possa incontrare, possa autoprodurre insieme. Siamo autodidatte, quindi noi ci informiamo, cerchiamo, studiamo e poi proponiamo a chi vuole partecipare degli incontri in cui insieme autoproduciamo, in cui ci scambiamo idee, raccogliamo stimoli nuovi e comunque appunto con l'idea di stare insieme, di crescere, di svilupparsi e di sviluppare una società consapevole. Questo è proprio il nostro cardine, è un po' il principio base. Abbiamo poi organizzato degli swap parties, siamo un po' cresciuti diciamo, nel senso che la cosa bella è stata anche il fatto di raccogliere appunto nuove idee a cui dar vita. Quindi abbiamo organizzato proprio qua nel rosetto degli swap parties a cui hanno partecipato un sacco di persone. Vuol dire fondamentalmente che se si hanno dei vestiti usati in casa, in buone condizioni, che non si usano più, anziché lasciarli abbandonati, si vengono a scambiare. Quindi abbiamo organizzato questi grandi mercatini e quindi abbiamo organizzato questi swap parties a cui hanno partecipato tantissimi giovani e meno giovani, perfino delle vecchiette è stato meraviglioso perché ci hanno portato, praticamente funziona così, si portano tutta una serie di vestiti in buone condizioni che abbiamo negli armadi vestiti, ma in realtà poi li abbiamo fatto con i libri, lo si può fare con qualsiasi tipo di oggetto, ci si organizza, ci si mette d'accordo e poi tu vieni lo scambi. Ovviamente tutte le rimanenze vengono portate alla caritas piuttosto che a degli enti benefici che poi magari li possono dare, ecco, a chi ne ha veramente bisogno. E questo ovviamente perché si vuole cercare di vivere l'economia circolare, vivere la premia cultura, cerchiamo tutta una serie di valori appunto, in cui crediamo di dargli un senso, di dargli concretezza. Siamo stati tra i membri promotori di Fridays for Future qua a Savona ed è stata anche quella un'attività molto bella, un po' perché ci ha permesso di entrare nelle scuole, di incontrare tanti giovani, tanti studenti, ma anche di fare una bella rete di associazioni qua sul territorio. Savona è un po' questo problema che non è molto facile legare. La cosa più bella e più importante appunto è quella di creare una realtà sociale, culturale, dove persone diverse possano venire, possano condividere idee, condividere sogni e noi lo facciamo ad esempio attraverso dei lavoratori di autoproduzione. Sensibilizziamo e cerchiamo di rendere consapevoli autoformandoci, quindi in realtà è tutto un andare sempre alla ricerca di cosa sono poi i valori, i principi, le consapevolezze che servono per vivere una vita responsabile. E appunto quindi cercare di creare questi poi i luoghi di aggregazione, i momenti di aggregazione per crescere, formarci e anche condividere. Sicuramente il punto sociale per noi è fondamentale nella realtà savonese, proprio perché cercavamo una scusa, un'occasione per stare insieme facendo qualcosa di propositivo, qualcosa di valorizzante per la realtà locale. Abbiamo dato vita a tutta una serie di laboratori, di workshop, abbiamo creato delle collaborazioni a livello locale con una libreria per bambini ad esempio, con un'associazione si chiama Casa di Miranda dove ospitano rifugiati, quindi è anche molto bello riuscire a creare un po' quella rete che a Savona sentivamo un po' mancare. È stato molto bello anche vedere la partecipazione di tante persone, tanti giovani e anche meno giovani e questo ha portato poi allo sviluppo ovviamente di nuovi percorsi, di nuove idee. Siamo stati tre promotori di Fridays for Future Savona e grazie appunto anche all'aiuto di tanti giovani delle scuole, siamo entrati nelle scuole, abbiamo incontrato degli studenti con cui poi abbiamo creato una relazione che ci ha permesso sia di organizzare le marce per il clima, che è stata un successone nel senso che comunque siamo riusciti a mobilitare e anche a portare a contatto con delle tematiche a noi care ma che speriamo che abbiano un futuro veramente tanti giovani. Abbiamo poi dato vita a una serie di swap parties, cioè praticamente dei mercatini dell'usato, cioè diciamo che abbiamo cercato di raccogliere delle idee e come associazione cerchiamo poi di dargli vita, utilizzando possibilmente il rosetto dei papi. Il nome è stato difficilissimo da scegliere ma penso che sia poi un qualcosa che accomuni tante associazioni, nel senso che cercavamo un qualcosa che richiamasse la concretezza ma anche la speranza del futuro e anche il discorso del mettersi in gioco, cioè è un qualcosa in cui vogliamo essere noi protagonisti. Quindi abbiamo visto nella parola domani da un lato appunto il futuro, quindi il voler migliorare l'oggi per il domani, ma allo stesso tempo anche il dare le mani, quindi il metterci le mani e anche il dare. Quindi non è solamente un qualcosa che io faccio per me ma un qualcosa che io attraverso le mani riesco a dare agli altri. E ovviamente si ricollega benissimo sia al discorso dell'autoproduzione, quindi del farmi le cose, del fare le cose per darle agli altri in maniera consapevole, sia un po' il ricollegamento che c'è qui agli orti sul riscopriamo anche il bello della semplicità e della terra. Quindi riscopriamo quel collegamento alla natura, quel collegamento al sapere che cosa usiamo, sapere anche quali sono poi in realtà i valori, nel senso che quello che è poi il pratico, il concreto si basa poi su dei principi. Quello che è stato veramente interessante nel momento in cui abbiamo proposto le nostre idee, in cui abbiamo proposto le nostre attività è stato anche vedere la differenza di accoglienza che c'è stato a livello territoriale. Dal punto di vista ad esempio dei workshop, dei laboratori, c'è stata tantissima aderenza di persone dai 40 anni in su, che non ci aspettavamo, persone magari che conoscevamo, che hanno fatto passaparola, ovviamente il passaparola è come sempre lo strumento fondamentale e quindi loro che poi magari passando parola, raccontando delle persone più giovani, hanno iniziato a portare persone più giovani. Sicuramente il discorso Fridays for Future ci ha avvicinato invece a quella che è l'età magari media e superiori e dopo aver organizzato le marce, dopo aver organizzato tutta una serie di swap parties a cui invece hanno aderito tantissimo i ragazzi giovanissimi ed è stato proprio carino perché hanno portato un sacco di roba, hanno scambiato un sacco di roba, hanno passato un sacco di tempo con noi anche a programmare eventi futuri, c'è stato poi un passaggio, quindi è cambiato un pochino l'approccio. Poi su Stavone ad esempio gli scout hanno un grandissimo, cioè ci sono tanti scout, c'è un gruppo giovane molto forte, quindi conoscendoli, essendo anche noi scout, in realtà poi è stato facile organizzare dei laboratori con loro, coinvolgere magari quel tipo di giovani alle nostre attività, mentre ad altri a cui non eravamo ancora arrivati, grazie a Fridays for Future siamo riusciti a divulgare un pochino di più i nostri messaggi. Quello invece che è interessante a livello associativo è che a Stavone forse facciamo un po' fatica a metterci insieme. Cosa ci è piaciuto è che nel momento in cui abbiamo fatto una chiamata dicendo mettiamoci insieme, c'è stata una risposta pazzesca, forse perché siamo giovani a proporre, comunque è stato bello vedere una risposta molto attenta, anche una bellissima partecipazione. Sicuramente nel futuro l'idea che abbiamo è di cercare di continuare a coinvolgere diverse fasce d'età, possibilmente partendo dai bimbi per crescere con loro, per divulgare anche a loro l'idea del riprendiamo un pochino il contatto con la terra, la consapevolezza di quello che usiamo, del prendersi cura di sé, prendendosi cura del territorio e dell'altro che ci circonda. I membri attivi dell'associazione al momento siamo in otto, siamo fortunatamente i membri fondatori, appunto siamo molto giovani come associazione e siamo quattro giovincelli un po' meno giovani che vanno dai 50 anni in su e poi ci siamo invece quattro dai 30 anni in giù, quindi c'è appunto questa doppia fascia d'età che fa parte dell'associazione e oggettivamente ci dividiamo un po' i compiti, nel senso che mentre noi quattro un po' più giovincelli ci occupiamo del discorso dell'autoproduzione, ci siamo occupati di stare dietro a Fridays for Future, sicuramente i quattro un po' meno giovincelli sono quelli che si occupano prevalentemente della gestione del Roseto, dell'organizzazione qua del Roseto, due di queste famiglie, cioè tre di queste persone sono quelle che hanno effettivamente acquistato poi tutto il terreno qua del Roseto e sono quelle che hanno il sogno, cercando poi altre famiglie, di dare vita a un co-housing qua, in questo terreno e quindi ecco siamo in otto e con dei compiti perché oggettivamente ci dividiamo un pochino i compiti però è molto bello vedere come ci diamo una mano a vicenda, nel senso che così come noi cerchiamo di coinvolgere i giovani in tutto quello che magari è qualche attività che può essere l'organizzazione di incontri formativi piuttosto che incontri su delle tematiche a cui a volte i giovani tendono a stare lontani, così a viceversa nel momento in cui noi proponiamo alcune attività che diamo per scontato possano attirare un pochino più una platea di giovani, loro cercano di coinvolgere altre associazioni che magari conoscevano già da tempo, altri giri, ecco. Allora, membri di questa associazione di otto persone, tre siamo io, mia madre, mio padre e io appunto è interessata al discorso di autoproduzione e degli scambi europei all'interno dei quali, vabbè, di cui poi parleremo e mia madre, mio padre invece appunto tra i coloro che stanno veramente, cioè che hanno veramente questo sogno da vivere oggi per il futuro, del dar vita a un co-housing, aprire il rosetto al pubblico e via dicendo. Ovviamente non è sempre facile però penso che sia un percorso bellissimo da condividere, nel senso che mi rendo conto che io sono cresciuta grazie a dei valori, seguendo dei principi che mi hanno trasmesso e che sento aver fatti miei, per cui, che poi però a cui do effettivamente concretezza in maniera diversa, nel senso che il discorso del rispetto reciproco, il rispetto dell'ambiente, il cercare di avere un impatto consapevole nel mondo che mi circonda, è un qualcosa che mi hanno trasmesso loro, che continuano loro a vivere molto più in grande probabilmente di quanto stia facendo oggi io, perché ho fatto un percorso diverso e nonostante a volte ovviamente non sia facilissimo, cerchiamo veramente di collaborare, quindi è un bel percorso di crescita anche familiare, ecco penso. Quindi nel rispetto reciproco, nel rispetto del fatto che ogni voto vale uno, cerchiamo veramente di condividere questo sogno insieme. Un altro argomento che ci sta molto a cuore e che vorremmo pian piano portare sempre più attivamente nella città di Savona è quello degli scambi europei. Io personalmente ho partecipato a diversi scambi in giro per l'Europa che rientrano nei programmi Erasmus Plus e reputo che sia un'occasione pazzesca per i giovani sotto i 30 anni per poter vivere esperienze fuori dalla propria città, fuori dal proprio Stato, sperimentare cosa significa far parte dell'Unione Europea in maniera attiva, da cittadino attivo e poter viaggiare a gratis, perché questi progetti sono progetti che variano da una settimana a due settimane, tutti si basano su una tematica quindi hanno l'obiettivo di formare i giovani che partecipano a questi scambi ed sono completamente spesati dall'Unione Europea. Sono delle occasioni incredibili per conoscere persone da tutta l'Europa e per appunto confrontarsi su come una stessa tematica possa essere vista diversamente in diversi Stati ma allo stesso tempo possa essere condivisa secondo determinati principi perché purtroppo io temo che spesso non ci si senta cittadini europei. Invece è una ricchezza incredibile, è una ricchezza di cui dovremmo essere un pochino più consapevoli. Noi diamo per scontati che viaggiare sia un diritto, diamo per scontati che saper parlare una lingua che ci accomuna ad altre persone sia un qualcosa di normale, non lo è. Non lo è e forse se uscissimo un pochino di più dal nostro piccolo angolino scopriremo a un mondo meraviglioso, bide le persone meravigliose che possono veramente trasmetterci tanto e poi cresceremo tanto. Cresceremo e potremo riportare a casa un cambiamento perché se non si va fuori non si vede il bello che c'è fuori è anche difficile a volte riportarlo poi qua perché non sappiamo che c'è. E quindi ecco il sogno è sicuramente essere promotore di questo scambio, quindi di far sapere ai giovani locali che esistono queste possibilità di cui purtroppo non si parla abbastanza e sono pochi i giovani che sanno che possono prendere e partire spesati per viaggiare in tutta Europa affrontando delle tematiche veramente appassionanti che ci toccano ogni giorno. E quando dico questa cosa intendo dire che si parla di arte, di natura, di cultura, di cittadinanza attiva, di politica attiva, cioè ci sono mille tematiche che si vengono affrontate in tutta Europa. Ma allo stesso tempo ovviamente ci piacerebbe portare questi scambi qua perché ovviamente non è solo arricchente per chi va ma è anche arricchente per il territorio che li ospita perché vuol dire ritrovarsi 20-30 giovani da tutta Europa che sul territorio prima si confrontano su determinate tematiche dopodiché svolgono delle azioni concrete sul territorio che avranno poi l'obiettivo di riportare anche a casa. Pensiamo tutti che sia veramente un'esperienza meravigliosa di cui sia giusto parlare e ci piace l'idea di poter farci promotori a livello locale di questa cosa. Adesso abbiamo scritto degli scambi, sono stati approvati, uno qua a Savona che doveva venire ad ottobre, adesso appunto cerchiamo di riorganizzarlo al più presto possibile ma vedremo come andrà. Invece un altro in partnership con l'Islanda e uno in Spagna, quindi cercheremo poi dei volontari che vadano in Islanda per 10 giorni e in Spagna per due settimane. Questo è solo l'inizio nel senso che ci lavoriamo da poco e speriamo veramente che questo progetto cresca. Allora ci sono due tipi di scambi, uno sono proprio gli exchange, vanno dai 18 ai 30 anni e sono degli scambi in cui di solito vi è un alto numero di partecipanti tra i 40 e i 60 e affrontano una tematica a livello magari un pochino più diciamo superficiale ma che mira a un grande confronto tra i partecipanti. Vi sono poi i training courses invece che sono senza un limite d'età, nel senso che sono rivolti ai giovani lavoratori, quindi tendenzialmente dai 18 anni in su e sono molto più formativi. Di solito prevedono tra i 20 e i 40 partecipanti e hanno proprio l'obiettivo di affrontare in maniera un pochino più dettagliata sempre seguendo il metodo non formale, quindi non vi saranno mai delle lezioni frontali ma bensì l'idea è creiamo questi scambi in base all'apporto che ogni partecipante può portare, in base alle proprie esperienze, alla propria cultura, alla propria formazione ed è incredibile, cioè io ho partecipato diversi di questi training courses ed è incredibile vedere quanto veramente se ciascuno ci mette il suo si arrivi a delle discussioni, a dei dibattiti, poi a delle azioni concrete che hanno un impatto notevole su noi stessi prima di tutto ma poi anche sul territorio da cui si arriva e dove si svolge lo scambio. Io sono rientrata da poco da un'esperienza di sei mesi in Islanda dove ho partecipato a un servizio di volontariato europeo il cui tema era vivere una vita consapevole dal punto di vista dell'impatto ambientale. Ho vissuto questi sei mesi in Islanda, avevo vissuto sei mesi in Estonia sempre però con il... c'è sicuramente una cosa che mi caratterizza è da un lato il desiderio di andare fuori di andare fuori, scoprire il bello che c'è, scoprire le possibilità che ci sono però poi sempre col desiderio di tornare a casa, nel senso che sinceramente penso che Savona abbia delle potenzialità pazzesche così come lo pensano anche gli altri ragazzi che fanno parte dell'associazione Domani, sono tutte persone che hanno vissuto delle esperienze fuori e che comunque chi non c'è ancora riuscito ha il desiderio di andare fuori ma tutti poi col sogno di tornare qua per migliorare quello che è qua perché appunto ci sono sicuramente delle potenzialità e tantissime cose che ancora non sono state realizzate, tantissimi miglioramenti che possiamo portare e tanti sogni da realizzare, quindi quello che ci piacerebbe è da un lato dare ad altre persone le possibilità che abbiamo avuto, noi siamo persone tutte fortunate che hanno avuto la possibilità di viaggiare, di formarci, ci piace l'idea di essere un'associazione che promuova anche questo c'è un legame al territorio a livello personale che fa sì che... io spero nella mia vita di avere un impatto positivo qua su Savona e quindi anche di starci bene, per starci bene ho anche bisogno che ci siano una serie di servizi, una serie di possibilità che nel momento in cui mancano qualcuno deve colmare, allora abbiamo detto beh facciamolo, cioè sporchiamoci le mani e cerchiamo di essere noi promotori di queste possibilità per le persone che vivono a Savona poi ovviamente è un inizio e sono tanti piccoli passi L'idea del Rosetto è nata sette anni fa, quando ero consigliere comunale di maggioranza avevo chiesto al sindaco di poter fare un intervento di risistemazione di tutta quest'area centrale in Savona ma totalmente abbandonata e degradata, c'erano più di 4 metri di altezza di Rovi il sindaco disse che era molto interessante, molto bello, c'erano varie aree anche comunali ma costava troppo, allora siccome in quest'area c'era di proprietà di un nostro amico gli chiesi di darcela in comodato d'uso gratuito per togliere tutti questi Rovi dopo aver tolto i Rovi decidemmo di fare qualcosa di piacevole, di interessante, di attrattivo e quindi pensiamo a un giardino di rose che si richiamasse a quello che era il periodo più bello più importante della storia savonese, che era quello rinascimentale dei due papi Sisto IV e Giulio II e quindi decidemmo di fare un progetto di un rosetto neorinascimentale e questo dopo aver tolto appunto tutto il degrado divenne un modo per aggregare volontari parallelamente all'esperienza del rosetto era nato all'interno del gruppo d'acquisto solidale Savonesa l'idea di fare co-housing tra le persone come noi di una certa età e quindi di andare a vivere l'ultima parte della vita tra di noi, tra amici, tra famiglie che si conoscevano invece che nel solito condominio, in un condominio condiviso, anzi in un co-housing. Nel frattempo il proprietario del rosetto decise di venderlo e a quel punto lì pensammo, siccome alcuni di noi erano volontari in questo progetto di riqualificazione degli orti falconi, di pensare di comprare il rosetto e la villa a tre piani che c'era. Allora a quel punto lì decidemmo di acquistarlo e fu una scelta tutto sommato apparentemente molto sofferta però che si è rivelata sicuramente vincente perché poi dal rosetto sono nati gli orti che hanno aggregato altre persone e sono diventate diciamo così uno stimolo per poter uscire da quello che era il nostro progetto solo di futuri pensionati che andavano a vivere assieme ma ci ha messo in contatto con tutta una serie di situazioni, di esperienze e abbiamo incontrato Rive, la rete italiana dei villaggi ecologici questa nuova realtà ci ha messo in discussione, ci ha fatto cambiare e quindi abbiamo deciso di abbracciare per la sociocrazia, per le nostre decisioni, di aprirci anche a altre famiglie e poi di creare un'associazione domani da cui diciamo così involontariamente troviamo un modo per fare esperienza anche con i nostri figli e con quindi la generazione successiva. Stiamo ristrutturando, ovviamente pensavamo di fare una casa passiva quindi una casa che non solo ha bisogno di energia ma produce energia quindi è autosufficiente dal punto di vista energetico conoscendo Rive abbiamo scoperto anche tutta una serie di possibilità, la fitodepurazione quindi essere autonomi anche dal punto di vista del ciclo dell'acqua poter utilizzare l'acqua piovana negli sciacquoni per irrigare, per fare pulizie e poi quest'acqua stessa poterla depurare e poterla usare poi per l'irrigazione è una cosa estremamente importante. Cerchiamo non soltanto l'autosufficienza energetica ma anche l'autosufficienza idrica e l'autosufficienza alimentare facendoci ovviamente gli orti, facendoci anche le marmellate, facendoci le conserve, i fermentati tutta una serie di prodotti che poi ci servono per il nostro benessere perché non sono soltanto alimenti ma sono alimenti per curarci sono un modo diverso per affrontare quella che è la prevenzione primaria che in Italia normalmente non viene utilizzata quindi respirare aria buona, mangiare prodotti buoni e essere in equilibrio con la natura quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi